Siamo super contenti perché finalmente riusciamo a esprimere il nostro gioco, a far vedere chi siamo e tutti gli allenamenti quindi stanno ripagando, quindi non potremo esserne più felici. Adesso c'è una partita importantissima, Alessia, domenica contro Montale. Noi abbiamo vinto quattro partite di fila, bel momento, anche di testa, quindi si sta bene, no? Sì. Però bisogna concentrarsi adesso. Esatto, domenica è una partita per noi fondamentale perché appunto ci servono punti, però loro sono nella stessa situazione e so che verranno qui con la voglia di vincere, con la voglia di interrompere la nostra scia positiva, quindi noi dobbiamo rimanere appunto concentrati e fare il nostro gioco e dimostrare appunto quelle che siamo veramente, cioè quelle di questa sera. E anche delle giornate precedenti. E delle scorse partite, esatto, di queste ultime quattro gare. Sei soddisfatta tu a livello personale, Alessia? Sì, molto, sono contenta perché tutto ciò che sto provando nel lamento riesco a metterlo in campo e quindi questo è quello che appunto voglio ottenere e sono super contenta. Complimenti ancora, Alessia. Grazie.